Ed eccoci qui in questo nuovo fantastico video, non si capisce di cosa si tratta e per prima cosa vi chiedo di iscrivervi subito al nostro canale Dinosauromania e ad iniziare a mettere tanti like, tanti pollici in su per restare sintonizzati sul nostro canale. Come sapete già dagli scorsi video ogni tanto mi diletto a fare degli acquisti pazzi su Aliexpress. Se andate a vedere le vecchie recensioni avevo acquistato una federa di Jurassic Park che era veramente veramente carina. E allora anche questa volta sono rimasto più o meno sulla stessa tipologia di prodotto, ho visto che c'era qualcosa che veramente mi piaceva ed ovviamente a bassissimo costo. Ho aspettato più di un mese che arrivasse questo pacco dalla Cina e ora ragazzi lo voglio aprire subito insieme a voi. Vediamo cosa c'è all'interno, è già una settimana che mi è arrivato questo pacco ma ho preferito aspettare che anche voi Dinosauromania lo vedesse insieme a me. E allora ragazzi, già il disegno prospetta qualcosa di simpatico. Vogliamo vedere subito cosa c'è all'interno? Apriamo la busta. Non voglio distruggerla perché poi questo sarà uno dei regali che andrò a dare al mio piccolo Michael. Vi chiedo anche di seguire il suo canale MichaelGiurassirock dove facciamo veramente tanti video divertenti per bambini, ovviamente a tema dinosauri. E allora non ci dilunghiamo e apriamo subito questa fantastica busta. Ecco ragazzi, vi invito quindi a fare un salto su AliExpress. Ragazzi, a prezzi bassissimi ci sono veramente delle cose carinissime. Allora, un po' di suspense. Guardate ragazzi che federa simpatica per le camerette dei vostri bimbi o magari per voi stessi. Ta-da! Questa è la federa di Jurassic World. Allora ragazzi, la grafica è fighissima, la stampa anche. Non vedo sgranature e poi comunque per quello che l'ho pagato è veramente fantastica. Credo che mio figlio, ma io stesso, ne siamo veramente veramente contenti. Quindi ragazzi, prima federa, logo Jurassic World è quello che conosciamo tutti, veramente eccellente. A me piace, l'avrò pagato circa 2,50 o 2,70 adesso non ricordo. Passiamo all'altra. Beh ragazzi, guardate, qui secondo me ci siamo superati. Anche perché la qualità della stoffa mi sembra abbastanza interessante. Guardate, Velociraptor. Il disegno è incredibile, è bellissimo. Io già ce lo vedo, con un cuscino dentro esce una cosa fenomenale. Guardate ragazzi, lo sfondo. L'ambientazione un po' strana, ci sono dei cactus. Però dai ragazzi, ci può stare un Velociraptor mamma e un mini Velociraptor veramente immagine carinissima. Guardate, nella descrizione vi inserirò poi il link dove ho acquistato queste fantastiche federe. E poi passiamo a quell'altra. Beh ragazzi, che dire. King T-Rex, la frase la dice tutta. Abbiamo un T-Rex e un Triceratopo fantastici. Grafica eccezionale. Io ve la faccio vedere da vicino perché dovete rendervi conto da soli che comunque anche il tessuto non è male. Guardate ragazzi, è spesso e comunque di sicuro non subirà delle modifiche dopo dei lavaggi. Credo che rimarrà così com'è e ripeto, per quello che costano è veramente veramente fantastica. Guardate ragazzi, ma la stampa comunque mi aggrata tantissimo. Sì, vedete, è veramente veramente ben fatto. Anche perché ci sono delle sfumature, delle colorazioni veramente belle. E comunque, che dire, sono veramente delle federe simpatiche e carinissime da acquistare. Diciamo che tra le tre, ok, ho acquistato quella di Jurassic World perché ovviamente il logo faceva gola. Però vi posso assicurare che a mio avviso, toccandole e guardandole, queste due con queste immagini simpaticissime sono veramente le più belle. E allora ragazzi, mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al canale e ciao da Dinosauromania! Grazie!